50 a rotoballe pari a circa 150 quintali di fieno sono andate in fumo ma l'intervento delle squadre dei pompieri di Piove di Sacco e Padova è riuscita a circoscrivere l'incendio divampato la notte scorsa nel fienile di un'azienda agricola di Bovolenta, evitandone l'estensione all'intera struttura. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento, smassamento del fieno e messa in sicurezza della struttura sono durate circa 8 ore.